La storia della signorina Kerseven La storia della signorina Kerseven è una doppia importanza. Faremo scala a Cairo e spero di rivedere mia madre che non l'ho vista a 19 anni. Mia madre è andata allo giù per lavorare. A lavorare vanno anche loro. Un centro di raccolta a Fortmers si incaricherà di sistemarli. Il cuore però l'hanno lasciato al loro paese.